ceferin tema ceferin velocemente avevi colto ai colto questa notizia con sorpresa federico ma le dinamiche amiche della uefa sono abbastanza come dire abbastanza sorprendenti fino a un certo punto perché le lotte di potere si sa che nascondono intriga e colpi di scena che possono cambiare cambiare gli scenari da un momento all'altro sarebbe un romanzo da ambientare nel monastero di orval io farei mistero io voglio scriverlo che bello quante idee mi da questo cara si era si era luigi 16 si era scappando da versailles si era rifugiata nel monastero di orval tant'è vero che i rivoluzionari lo distrussero e dopo fu ricostruito tutto lì un po di nozione storica quindi non è come me che è un po pubblico c'è molto pubblicizzato molto quindi scusa federico non così sorpreso ma non così sorpreso perché poi in ballo c'è in ballo c'è un po di tutto il a livello di riforme mi sembra che sia un po sottotiro da un po di tempo no al di là del stato da parte sua il tentativo negli ultimi tempi di anche di forzare un po la mano in termini di regole di durate numero dei mandati per provare a rafforzare ulteriormente il suo potere in un'ottica quasi autocrate e però dall'altra parte io penso che alcuni alcuni procedimenti del calcio piacciono o non piacciono poi ognuno può avere la propria idea chiaramente sono cose che non vanno accettate a criticamente no anche il concetto della super lega la formulazione della super lega è chiaro tu è non essere d'accordo un altro conto è stoppare sul nascere ogni tipo di dibattito con con accuse o ragioni più o meno più o meno è federico che si frizza credo è io è federico è federico io che frizzo si hai una connessione è saltato sul più bello ci stavi dicendo già prendo 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 un cavo prendo un cavo nuovo e ragazzi allora sappiate che federico ha detto il nome del prossimo presidente uefa ma non si è sentito ragazzi però non si può e sapete che poi paganini non ripete secondo me non ce lo dirà dopo carlo tu che idea ti sei fatto su questa vicenda secondo me negli ultimi mesi direi l'ultimo anno insomma le polemiche attorno alla figura di ceffre erano eccessive nel senso che lui si è buttato dentro in lotte guerre che non fanno il bene di nessuno quindi qualcuno gli avrà detto adesso basta mettili da parte e via lui a un certo punto come spesso cade in questi uomini di potere iniziano come manager poi pensano di essere come dire padroni del mondo sia sia un po abbia avuto un po come dire sia un po trasceso ecco ha cominciato a far battaglia destra e manca al di là della 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 come dire della valutazione su tutte queste battaglie mi sembra che sia entrato un po troppo nell'occhio della polemica quindi conviene a tutti a lui per primo di lasciar perdere perché non è il caso quindi io credo che sia stato consigliato di di andare insomma di non di non riproporsi come presidente poi avrà mille altri incarichi in altre cose però sappiamo questi questa gente qua non esce mai dal giro però basta così insomma inutile che ogni volta che deve fare una dichiarazione e contro questo e contro quest'altro insomma sono anche istituzioni che ci tengono a non finire in questo soprattutto in questo momento perché c'è questa storia della superlega sempre in mezzo della polemica sì ecco io devo dire che al netto dei contenuti su cui ovviamente sono stati temi anche tosti forti anche le ultime parole non so prendere la posizione contro l'alta corte europea dicendo ma nel comunicato che hanno fatto hanno scritto tutte cose sbagliate c'è l'altra che c'è hanno che ne avevano come capo ufficio stampa l'hanno preso per strada non credo ecco però dico a parte questo in generale sicuramente quello dice carlo si lega ai toni cioè non è veramente prima ancora che i contenuti credo che per un istituto i toni da troppo tempo erano fuori fuori registro detto questo a me invece devo dire la verità ha generato grossa grossa sorpresa questa cosa perché è vero che l'avranno consigliato di come dice carlo però mi sono sempre anche chiesto ma chi ha la forza di far cioè chi perché non lo so cioè chi ha la forza di 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 prendere una una figura di questo genere ma anche con questo modo di porsi e metterlo e fargli capire o anzi o anzi dirgli guarda che no no fuori e non lo so forse il presidente fifa o dei o quello che c'è tutto lì dietro che è un mondo ovviamente quasi imperscrutabile per certi versi no ecco intanto gli juventini michele l'hanno presa come una buona notizia io ma viene subito da far il parallelismo con tutte le lotte con con andrea agnelli superlera non superlera al di là di questo io sono d'accordo con te luca sono sono rimasto sorpreso anche io perché punto primo mi chiedo come mai allora si è dimesso boban qualche settimana fa è una conseguenza di essere stato mollato in maniera trasversale c'è da dire anche che il come stavo come stavo cercando di dire prima che si è capito forse a pezzettini a quando ci hai anche detto il nome del prossimo presidente uefa ma non si è sentito esatto no ricollegandomi a quello che diceva anche carlo e la sensazione era quella di una deriva un po autocratica da parte di ceferin e ecco appunto i toni così prolungati appunto in un'organizzazione che per definizione non può essere divisiva ma deve essere invece il più il più accogliente il più accogliente possibile io avevo interpretati come una spia di debolezza perché comunque i va gli indizi che si stavano accumulando nel tempo le dimissioni di boban le avevo interpretate come un suo alleato storico un amico storico che lo scarica e questo si andava poi ricollegare tutto quello che era successo con la corte adesso ma da quello che si legge anche oggi e se veramente l'appoggio della football association alla richiesta di modifica della dire di riforma della dello statuto effettivamente avvenuto diciamo che è comunque un segnale pesante perché la efei è stata la principale alleata di ceferin nello smantellamento nell'aborto diciamo della della superlega prima versione quindi fa capire che probabilmente le carte in tavola sono sono cambiate in che modo poi questo secondo me è ancora presto per per capirlo perché chiaro che comunque gli inglesi continuano a essere quelli che hanno meno interesse di tutti a entrare nella superlega sto usando un vecchio metodo anni 70 per mettermi a fuoco ragazzi tranquilli ragazzi si bisogna appoggiarsi a tutto il bagaglio d'esperienza ma non so se ne ho capito intanto dicono la j va d'assi dice intanto lui si aspetta l'amico va d'assi che ceferin a questo punto possa anche non arrivare a duemilaventisette sinceramente non iniziamo a fare però secondo me tu i chi romani non ci interessa c'è una notizia l'abbiamo commentata la parte successiva è interessante è stato quello che ha detto federico seduto in quel caffè ha sentito è stato l'unico a sentire quel momento in cui è saltata la voce e lui ha e federico ha detto rummenighe prossimo presidente della uefa quindi io non posso dire che sia vero ma non posso neanche dire che sia falso